È un'iniziativa che prevede tre giornate, nelle quali incontriamo una delegazione consistente dei ragazzi marchigiani, costa, collina, entroterra. Sono rappresentate tutte le province. Sono tre giornate concepite come un momento di ascolto, di aiuto, di interazione, con dei testimonial e con delle esperienze significative. Non vorremmo annoiarli, ma vorremmo cercare di far comprendere loro che qualsiasi scelta, sia essa liceale, sia professionale, tecnica per i ragazzini della terza media, oppure universitaria, presuppone un ascolto, un guardare, un mettere in discussione le proprie passioni e i propri interessi con quelle che sono le esigenze della formazione del mercato del lavoro. Questo ci interessa. Come coreografia abbiamo scelto Don Milani perché la scuola di Barbiana è una scuola che era un luogo di vita, di educazione, di inclusione, di lotta alla povertà. Aveva un metodo, aveva un grande interesse per la lingua, coniava alternanza scuola-lavoro senza chiederselo troppo. Era una scuola dell'essere più che dell'avere. Credo che non siamo nel dopoguerra, ma abbiamo una sorta di penuria, di mancanza educativa, di emergenza educativa, che ci porta a rifare i conti con questa testimonianza. Io ci credo molto a queste tre giornate, che poi verranno riportate sui territori durante l'anno, riportate con contenuti diversi, chiaramente. Abbiamo già pensato alla figura di Enrico Mattei, abbiamo pensato all'astrofisica, a Maria Montessori, all'alternanza, alla dispersione scolastica. Ci proviamo dando ai ragazzi un'opportunità di ascolto e di apertura.